Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotess, ho creato una nuova poesia dal titolo La luce dei principi, spero che dopo la condividete sui vostri contatti whatsapp Considerazioni sulla poesia, ho creato questa poesia dal titolo La luce dei principi perché ogni valore umano di candore puro è illuminato e parla al cuore di ogni persona quindi ogni valore che sia positivo, parliamo del valore della carità, dell'amicizia il valore autentico di ogni qualità seria è un qualcosa che ci illumina, ci riempie l'animo ci dà quella forza per andare avanti e per essere degli illuminati veri e propri vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo La luce dei principi ogni valore umano di candore puro è illuminato e parla col cuore in mano a chi è realmente interessato il valore della carità ha una luminosità forte e fatto di forte intensità anche contro la cattiva sorte il valore dell'amicizia ha una luce penetrante in fonde solida letizia per ogni cuore gioviale e solerte la luce dei principi brillerà nelle solide coscienze e i suoi momenti unici sono racchiusi nelle giuste speranze grazie e spero la spedirete a tutti i vostri contatti whatsapp arrivederci